Momenti di terrore ieri sera a Napoli quando due giovani di 22-25 anni sono stati feriti a colpi d'arma da fuoco nella notte. I ragazzi si trovavano nei pressi di un negozio in via Santa Chiara quando un uomo a piedi ha sparato colpendoli alle gambe e al basso ventre. I due sono riusciti a raggiungere l'ospedale Vecchio Pellegrini dove i sanitari hanno medicato una ferita alla gamba destra del 22enne che è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni e invece ricoverato il 25enne ferito gravemente al basso ventre che ora è in pericolo di vita. Sono in corso le indagini da parte della squadra mobile per ricostruire la dinamica dell'accaduto e il movente dei due tentati omicidi. Secondo quanto si è appreso colui che ha sparato si è poi allontanato a piedi dal luogo del delitto.